Ciao a tutti ed è finita da pochi giorni la stagione 4 della Casa di Carta, ma già sul web ci sono nuove voci che si rincorrono per la stagione 5, più che altro nuove teorie. Vediamo le più interessanti. Parliamo di Palermo, si vocifera che forse si potrebbe sacrificare per salvare tutto quanto il gruppo, come fece in qualche stagione precedente Berlino. Quindi potrebbe essere anche un'idea valida perché sarebbe un percorso che dal tradimento lo porterebbe verso la redenzione. Rio, come sappiamo, è stato oggetto di torture e manipolazioni per cui la sua psiche è stata messa a dura prova. È per questo che in un momento di emotività e fragilità lascia andare Gandia. Quindi molti si chiedono se effettivamente Rio sarà un traditore. Questo lo potremo scoprire soltanto nella stagione 5 della Casa di Carta. Manila l'abbiamo vista in quest'ultima stagione e molti dicono che diventerà un personaggio chiave della prossima. Prenderà probabilmente il posto di Nairobi e forse sarà lei stessa a uccidere Arturito. Abbiamo appena assistito al finale della quarta stagione dove Alicia Sierra ha trovato il professore e lo tiene sotto scacco. Ma come andrà a finire? La mia teoria è che Alicia farà un patto col professore, visto che anche lei è ormai ricercata dalla polizia. Anzi, addirittura si dice che mentre si troverà davanti al professore avrà le doglie. Infatti c'è anche molto mistero su questo bambino che aspetta perché molti vedono la somiglianza tra la moglie di Berlino e lei e si dice o che è la stessa persona, potrebbe essere la stessa persona o magari essere la sorella di Alicia. E quindi non so per quale motivo, ma il padre potrebbe essere addirittura Berlino. Questa ultima teoria non credo che sia effettivamente possibile, visto che Berlino ormai è morto da due anni, mentre il marito di Alicia è morto da qualche mese. Dunque ragazzi, fatemi sapere anche voi cosa pensate, cosa prevedete per la quinta stagione e scrivetemelo nei commenti qui sotto. Come sempre vi invito a iscrivervi al canale e a mettere un bel mi piace a questo video. Ciao e alla prossima!